Nascerà a Taranto nel quartiere Paolo VI in Piazza Pertini un centro di ricerca oncologico-pediatrico realizzato dalla Fondazione Giorgio Di Ponzio e l'iniziativa annunciata dai genitori Angelo e Carla nel giorno del terzo anniversario della scomparsa di Giorgio, con loro diversi componenti del CDA della Fondazione, tra cui Valerio Cecinati, responsabile del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata, con cui sarà instaurata una collaborazione. Presenti anche Francesco Montervino e Nico Monfredi della Taranto FC, gli imprenditori Vincenzo Fanelli e Mino Palmisano, ed una rappresentanza di Lions e Leo Club con Mario Colangelo e Angelo Mosca. La struttura verrà realizzata in una palazzina di 11 piani acquisita dalla Fondazione e tutti i fondi raccolti negli ultimi tre anni dall'associazione Giorgio Forever sono stati indirizzati al progetto. Sì, sono tre anni che non c'è più e tre anni che lottiamo col suo nome. Lottiamo per ottenere qualcosa che a lui è mancato ed è proprio una cura. Ed è da quel momento che siamo partiti per cercare di dare il nostro contributo a chi purtroppo un domani potrebbe trovarsi nella stessa nostra situazione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri volontari e tutte le persone che anche con un solo euro, anche con di meno, hanno potuto contribuire. E attraverso questo progetto possiamo costruire qualcosa di importante per la salute dei bambini di questa città. Ma io credo che sia opportuno da parte nostra dare sempre un segnale di vicinanza quando ci sono delle operazioni di questo genere. Questo è un momento che mi inorgoglisce tantissimo, veramente. Ho avuto pochi giorni fa questo invito.